Scena 10, le stesse, il Delfino, Madame Elisabeth. Il Delfino, Louis Charles, secondo genito di Luigi XVI. Nacque nel 1785, seguì la famiglia durante la prigionia al Tempio e poi, sulla sua sorte, calò il silenzio, ciò che diede adito alle più fantasiose e sinistre leggende. Il Delfino, saltellando, viva la nazione, viva la nazione, sorella mia, perché non gridate con me viva la nazione? Mamma, non è vero che bisogna gridare viva la nazione? Maria Antonietta, con un sorriso forzato, sì, figlio mio, bisogna sempre gridare viva la nazione. Sottovoce, non turbiamo la sua innocenza, con le sue grida lui diverte il popolo, niente meglio di un bambino per imporsi al volgo. Madame Royale, primogenita della coppia reale, Marie-Thérèse, fu l'unica della famiglia a venire risparmiata dalla furia rivoluzionaria. Liberata dalla prigionia solo nel dicembre 1795 e accolta presso la corte austriaca, quattro anni dopo, sposò un cugino, il duca di Angoulême. Mamma, è tutto il giorno che mi grida nelle orecchie, il delfino con rabbia, sorella, voi siete un'aristocratica, lo so, e io invece mi hanno detto che sono un patriota. Così, per farvi un po' arrabbiare, adesso canterò Saira, Saira e la Carmagnola e anche l'inno dei Marsigliesi, che ammazzeranno tutti i tiranni della terra. Una canzone nuovissima, questa, nessuno ancora la conosce. Un granatiere me l'ha appena insegnata, sottovoce. Adesso ve la canterò, mamma, poi la canterò anche al mio papare. Maria Antonietta con aria compunta. Fammi sentire, figliolo. A parte, fingiamo e vediamo cosa dice questa canzone. Il delfino. Non la so tutta e l'aria ha solo un po'. Madame Elisabete. Su, cantate. Il principe reale canta la prima strofa dell'inno dei Marsigliesi, uno dei tre più celebrini della rivoluzione francese. Maria Antonietta. Basta, basta, figlio mio, basta. Scena undici. Gli stessi, Luigi sedici e molti paggi. Un uscere. Il re. Il delfino correndo incontro al re. Ah, papà, mi hai sentito cantare. È carina la mia nuova canzone, vero? È bella come la Carmagnola. Luigi sedici toccandogli la mano. Cosa? Agli altri. Di che cosa sta parlando? Il delfino. L'inno dei Marsigliesi. Non lo conosci ancora? Ti piacerà, vedrai. Tu che non sei un tiranno. Sta alla larga da mia sorella e da tutte queste donne. Sono tutte aristocrati che ci faranno tagliare la testa. Tu, invece, sei un buon re e io non sono cattivo, lo sai bene. Ma, ma piangi. Non ho fatto nulla. Pensi che uccideranno anche me? Io voglio bene alla nazione. Oh, guarda come sto bene con il mio vestito da guarda nazionale. Guarda, papà re, guarda come faccio bene l'esercizio. Luigi sedici. Figlio mio. Caro figliolo. La tua gioia mi strazia il cuore. A parte. Lui è felice e io sono solo un padre disperato e più ancora un re disperato. Dolente. Moglie mia. Figlia mia. Sorella mia. Figlio mio. Che posso fare per salvarvi? Il delfino. Cos'hai? Mi fai tanta pena. Maria Antonietta. Confermezza. Re. Controllatevi. Su. Riuscite solo ad abbatterci di più. Luigi. Ritrovando un contegno. Oh, no. Non è nulla. Figlio mio. Va. Va nelle tue stanze. Ti raggiungerò e giocheremo insieme. Il delfino. No. Non voglio lasciarti. Se vengono a prenderti ti faranno del male. Ma se ci sono io con te non ti faranno niente. Lo sanno tutti che sono un patriota. E oggi i patrioti tutti li amano. Lo sai? Il re. Ahimè. Maria Antonietta. Uscite, figlio mio. Andate nelle vostre stanze. All'uscera. Accompagnate il delfino. E voi, figlia mia, seguitelo. Madame Royale. Mamma. Il delfino. Preferisco andarmene senza di lei. Mi fa sempre arrabbiare. E poi voi mi mandate sempre via. Non so cosa dite né cosa fate. Ma so che voi non volete bene alla nazione come gliene voglio io. E qualcuno mi ha detto che sarà per causa vostra se non sarò mai re. Invece è così bello essere re quando sia un buon cittadino. E io lo sono. Io. Uh. Che faccia scura fate. Me ne vado. Me ne vado. Corro. Esce con Madame Royale. Scena XII. Gli stessi, tranne il delfino e Madame Royale, più Clermont-Honère. L'usciere. Il signor Clermont-Honère. L'aristocratico Stanislas Marie de Clermont-Honère, fondatore del Club degli Amici della Costituzione monarchica, che venne prontamente chiuso, fu massacrato dalla folla mentre usciva dal palazzo delle Tuillerie nella notte tra il 9 e il 10 agosto 1792. Luigi, cosa verrà a dirci? Clermont-Honère con un slancio. Sire, si avvicina al momento della vendetta. Risalirete sul trono dei vostri antenati. Luigi, turbato. Un trono che mi costerà caro. Maria Antonietta. Che dite? È così che fate coraggio ai vostri fedeli sudditi? Re del più antico degli imperi. Quando smetterete di calpestare uno scetro che è ancora nelle vostre mani? Perché non sono io al vostro posto? Ah! Amici, lo vedete? Lo sentite? Sul punto di trionfare si scava il baratro da solo? Clermont-Honère. Sire, non c'è più tempo per tornare indietro. Molti quartieri sono in fermento. Stanotte verranno nel vostro palazzo. Vogliono assassinarvi. Ma la metà della forza armata è con voi. Lo Stato Maggiore è totalmente devoto. Diecimila nobili circolano già nel castello. Aspettano solo il segnale convenuto. Bisogna vincere o morire, Sire. Oggi è questo il motto di tutti i partiti. Sareste meno deciso dei vostri nemici? E quando non lo sarete più, credete che lo Stato sarà salvo? Esitate? Vedo che vi incupite in volto, gettandosi ai suoi piedi. Oh mio re, aprite gli occhi sull'abisso che sta per inghiottirvi. Rinsaldate il vostro trono che sta per crollare. Salvate la vostra sposa e i vostri figli. Espio il mio errore in ginocchio. Riparo i miei torti tradendo per il mio re una nazione perfida. Maria Antonietta, con tenerezza, lo sentite? Potete credergli? Si getta ai suoi piedi. Oh mio sposo, amico mio, salvate vostro figlio, la sua corona e sacrificate me sola. Luigi, con tenerezza, voi, moglie mia. Madame Elisabetta, gettandosi in ginocchio. Fratello mio, mio caro fratello, lasciatevi guidare da quelli che vogliono fare solo il vostro bene. La principessa dell'Ambal, in ginocchio anche lei. Oh mio re, morirò per voi. La principessa de Tarant, affronterò tutti i pericoli per difendere il re. Luigi, visibilmente afflitto. Va bene, va bene, acconsento a tutto. Clermont Tonner, alzandosi di slancio e andando in fondo alla scena. Venite, cavalieri della più antica nobiltà, e circondate il vostro re. Scena 13, gli stessi, un numero considerevole di cavalieri del pugnale. Luigi è addolorato. Io, io sarò lo strumento e il complice dei peggiori assassini. No, non posso decidermi. Mi ingannate tutti, ma il mio cuore, quello no, non mi inganna. A sua moglie. Cederò le vostre istanze, ma niente andrà per il verso giusto. Maria Antonietta, irata, non potete più ritrarvi, non c'è più il tempo. La vostra indecisione mi esaspera. Con un carattere come il vostro, labile, incomprensibile, come questa rivoluzione, ci fate vivere in una tremenda incertezza. E quando i vostri amici si espongono per indicarvi una strada favorevole, subito la vostra debolezza, anzi la vostra viltà, fa barriera, si oppone, è terribile. Padre crudele, perfido, sposo, vi manca solo di consegnare voi stessi ai vostri carnefici, la moglie e i figli. Fingendo di uscire. Fate aprire le porte, vado io. Luigi fermandola. Signora, signora, fermatevi, non avrete più da lamentarvi di me. Se anche perirò, se anche mi spingerete a distruggere i vostri e i miei interessi, almeno vi avrò obbedito. Questa sarà la mia scusante. Cosa volete di più? Maria Antonietta, insinuante, sento tutto il prezzo del vostro sacrificio, ma, credetemi, io non voglio che il vostro bene, quello dei vostri figli, è la gloria di questa illustre nobiltà che abbandona la sua fortuna e la sua vita per volare in nostro aiuto. Luigi, con più fermezza, il loro slancio mi commuove, ma cosa potranno fare in nostra difesa? Sono disarmati. I cavalieri del pugnale, straendo insieme dalla cintura un pugnale e una pistola, «Viva il re e la nostra regina!» Il re, spaventato, indietreggia verso la regina e distoglie lo sguardo. «Claire Montonnerre, rassicuratevi, sire, non sono i vostri assassini!» Luigi, turbato, «Non me l'aspettavo, confesso, è stata la sorpresa impaurirmi, ma tra questi congiurati non vedo Barnav!» Barnav, uscendo dalle fila, «Sì, sire, ci sono anch'io! Al momento di partire per unirmi ai vostri fratelli austriaci, seppi che vostra maestà e la vostra augusta famiglia era circondata da assassini e che questa notte il castello verrà assediato e dato alle fiamme, allora sono corso, sono volato accanto al mio re, e sorpresa e insperata, vi ho trovato circondato dai sudditi più fedeli e i più nobili che mi hanno accolto tra loro. Se anche nelle mie vene non scorre un sangue illustre, almeno i miei antenati mi hanno trasmesso il coraggio e l'amore per il re. Mandatario di un grande popolo e fedele suddito del mio re, forse ho meritato una ricompensa degna della causa che oggi servo.» Luigi, Barnav, «Non dimenticherò i servigi resi da voi.» Maria Antonietta, «Forse qualche onore, qualche ricompensa.» Barnav, interrompendola e guardando teneramente Madame Elisabeth, «Ne chiedo una soltanto, così cara il mio cuore.» Madame Elisabeth, arrossendo e a parte, «Oh, tremo.» Maria Antonietta guardando con sussiego, «Madame Elisabeth, sorella, vergognatevi.» Claire Montonner, sottovoce alla regina, «Signora, non dimenticate che il sindaco di Parigi deve presentarsi a resta sera alle dieci.» Maria Antonietta, sottovoce, «Me ne occupo io.» Claire Montonner, «Rispondo io del resto.» Maria Antonietta, guardando Madame Elisabeth, e lasciando capire che i propri interessi le stanno più a cuore dei sentimenti della cognata, al re, «Sire, accompagnatemi nei miei appartamenti, devo parlarvi.» Ai cavalieri del pugnale, «Vi lascio, signori, ma sappiate che sarete eternamente presenti nella mia memoria.» A Claire Montonner, e voi, amico fedele, servite sempre il vostro re, sapete quanto vi è riconoscente. esce lanciando a Barnav un'occhiata di disprezzo. Claire Montonner, ai cavalieri, «Unici sostegni della monarchia, amici del re, seguitemi, andiamo a preparare quanto serve per combattere.» Escono. Scena 14, Madame Elisabeth, Barnav. Barnav, affermando Madame Elisabeth, «Mi lasciate così, senza aver detto una parola sul nostro progetto.» Madame Elisabeth, «Ah, Barnav, Barnav, che avete fatto? La regina sa tutto.» Barnav, sorpreso, «Che dite, signora? Chi l'ha informata?» Madame Elisabeth, «Voi.» Barnav, «Io?» Madame Elisabeth, «Voi, solo voi.» Barnav, stupito, «E come?» Madame Elisabeth, «La vostra espressione, il vostro linguaggio, cos'altro mancava perché quella astutissima donna non vi siete accorto con quale disprezzo vi ha guardato uscendo.» Barnav, «Non vedevo che voi. Che ci importa del suo giudizio dal momento che da voi soltanto attendo una risposta? Se la mia principessa, approfittando del tumulto di stanotte, la consentirà a seguirmi, io sarò il più felice dei mortali, lontano dalla corte e dalle fazioni. Ci attende una vita tranquilla.» Madame Elisabeth, «Oh, Barnav, temo che la nostra felicità non sia che un'illusione, un sogno ingannevole e che al risveglio ci attenderà qualcosa di orribile. Ma non importa, è tale l'incanto dell'amore che ho conosciuto con voi, malgrado la nobiltà del mio sangue avete vinto. Cederò ai vostri sentimenti, obbedirò ai miei e seguirò il mio sposo.» Barnav con trasporto, «Oh, mia principessa, indicatemi l'ora, il luogo.» Madame Elisabeth, fermandolo, «Quando la campana suonerà a mezzanotte, in mezzo al tumulto, mi aprirò un passaggio e vi seguirò.» Barnav, figlia dei nostri re, «Anche fra le fiamme io vi salverò. A mezzanotte precisa, circondato dai miei amici, rapirò la mia principessa. Madame Elisabeth, addio! Possano questi tumulti che tanto temo vendicare mio fratello e aiutare il nostro amore.» Scena 15, Barnav solo. «Barnav, la fortuna ti sorride! Oh, fortunato viaggio di Varenne! Finalmente ho raggiunto il rango che mi spetta! Finalmente camminerò accanto ai re! Luigi XVI, risalito sul trono del dispotismo, non potrà esercitare su di me il rigore di un pregiudizio ormai vecchio. Gli ho conservato la corona. Come ricompensa, sposo sua sorella. La sposo clandestinamente, è vero, ma le circostanze lo impongono. Poi, una volta richiamato a corte, potrò a mia volta punire i miei nemici. Su, su, non perdiamo altro tempo, andiamo a preparare una così bella impresa.» Atto II, la scena è di notte. Scena 1, Clermont-Tonnerre, Laporte, il capodivisione, Charton e Bucman. «Laporte, con piacere vi vedo riuniti nel palazzo del nostro virtuoso re per difenderlo, ma non basta il vostro coraggio. Avete degli uomini sicuri?» Bucman. «Laporte, con i soldi e un po' di acquavite e il coraggio dei soldati raddoppia. Rispondo io dei miei svizzeri.» Laporte, al capodivisione. «E voi?» Il capodivisione. «La Guardia Nazionale non si guadagna allo stesso modo. La maggioranza crede di difendere la patria sostenendo la Costituzione e il re. Solo parlando così ho potuto convincere i cittadini. Tre divisioni saliranno stanotte al castello.» Charton. «E le altre tre non si muoveranno.» Clermont-Tonner. «La neutralità di una forza maggiore in questa circostanza ci è molto favorevole. Tutto il castello è armato fino ai denti.» Laporte. «Merito mio.» Clermont-Tonner. «Laporte. Dite piuttosto merito dell'Assemblea Costituente. Cosa avreste fatto senza la lista civile? Soltanto con loro si fanno le rivoluzioni e le controrivoluzioni. Lo sapete?» «Laporte. Affabile. Ben detto. Al maggiore Buchmann ho fatto montare 1200 letti per gli svizzeri e i falsi svizzeri che la notte scorsa non hanno chiuso occhio. Ho fatto preparare una minestra per i vostri diecimila uomini.» «Certo, non esagerate col vino, eh? Ma al momento giusto non dimenticate di aggiungere l'acqua vita alla polvere di cannone.» Clermont-Tonner. «Perché la regina tarda a venire? Oh, eccola!» Scena 2 Gli stessi Maria Antonietta Maria Antonietta con una lettera in mano che consegna un valletto volate dal sindaco di Parigi «E non lasciatelo finché non avrà obbedito agli ordini del re!» Avanza verso il pubblico. «Se verrà, sapremo con quale diritto stravolge i decreti di una costituzione di cui si dice l'apostolo. Del resto, che li stravolga, che distrugga la sua stessa opera, non gliene faccio un crimine. Ma se noi periremo, dovrà perire con noi. Verrà, secondo voi?» Il capo di visione. «Se non ha nulla da rimproverarsi, non esiterà.» Nota, il sindaco di Parigi, Jérôme Pétion de Villeneuve, fu tra quelli che insieme a Barnave riportarono a Parigi il re e la sua famiglia dopo la fuga di Varenne. In quell'occasione fu Pétion e non Barnave che, secondo la sua stessa testimonianza, visse un trasporto amoroso e senza seguito con Madame Elisabeth. Nella notte del 20 giugno tentò di impedire l'assalto al Palazzo delle Tuillerie. Le testimonianze circa la sua presenza a Palazzo nella notte tra il 9 e il 10 agosto sono contraddittorie. Più tardi, in urto con Robespierre, Pétion passò nelle file dei Girondini e questo determinò il suo arresto. Riuscì a fuggire e per non venire catturato si uccise con un colpo di pistola insieme a un suo compagno di fuga. Maria Antonietta Lo credete senza colpe, Pétion? Pensate che serva alla nazione con purezza e disinteresse il sindaco di Parigi? No. È l'ambizione che lo guida nient'altro che quella. Se ci sfida, non lo fa perché disprezza le alte cariche, ma perché mira le cariche supreme. Questa è la prova lampante che va in cerca delle nostre spoglie solo per rivestirsene. Capo di un partito, come può essere senza ambizione? Conosco il suo carattere, la sua umanità, il suo patriottismo non sono che ipocrisia. Verrà e fingerà di compiangere il re. Cercherà perfino di metterlo di nuovo in allarme sui pericoli che lo minacciano. Poi uscirà in tutta fretta per armare lui stesso la mano degli assassini. Perciò io la penso come Clermont Tonner quando lo avremo qui, al castello, bisogna impedirgli di uscire. Se il popolo è più forte di noi non oserà mettere in atto alcun tentativo criminale finché il suo primo rappresentante è in mano nostra. Insomma, sotto ogni punto di vista quell'uomo c'è più necessario della forza armata. Scena 3. Gli stessi l'usciere della camera. Maria Antonietta sorpresa. Così presto di ritorno? L'usciere. Signora, il signor sindaco stava entrando al castello nel momento in cui uscivo per andare da lui. Dopo aver letto la lettera del re mi ha detto che era felice di aver anticipato i voleri di sua maestà e che non l'avrebbe abbandonato finché non si fosse ristabilita la calma. Adesso è stato fermato da un capo di visione e se vostra maestà lo sentisse Maria Antonietta interrompendolo. Basta così. Cielo, non mi sarò sbagliata. Non sarò così sciagurata da vedere in un uomo onesto un facino roso. Ma virtuo in postura che sia cosa cambia a questo punto. Cavalieri francesi spero solo in voi. Dovete tirarci fuori dalla tragica incertezza in cui ci troviamo e che è mille volte più crudele della morte. I cavalieri come un sol uomo lo giuriamo. Clermont-Tonner, signora, lasciate fare a noi. Prima che il sole versi i suoi raggi sulla terra o non saremo più o trionferete e l'albero della monarchia distenderà attorno a sé quei rami che ora si vogliono abbattere. Maria Antonietta, guardando con trasporto i cavalieri del pugnale, la gloria di servire i re appartiene solo alla nobiltà. In tutti i tempi essa ha versato il suo sangue per il trono. Senza il trono niente più nobiltà. Un interesse comune ci lega oggi più che mai gli uni agli altri. Il dado è tratto. La contro-rivoluzione o la morte? Bene, vi lascio, devo sentire anch'io cosa da dire il sindaco di Parigi. La porte, seguitemi. Escono. Scena 4. Clermont-Tonner, il capo di visione, i cavalieri del pugnale, Granatieri, Bucman e Petion. Entrano tutti dalla parte opposta a quella da cui è uscita la regina. Un cavaliere del pugnale a Clermont-Tonner, al maggiore degli svizzeri e al capo di visione. Signori, il sindaco di Parigi, tirando fuori il pugnale, bisogna colpire? Siamo pronti? Clermont-Tonner, no, non è ancora l'ora, quando avrò lasciato il re vi dirò il da farsi. Un granatiere a parte, cosa vedo? Cosa sento? Mi hanno ingannato, ingannato! Un secondo granatiere vedendo l'altro sconvolto sottovoce, compagno, hanno ingannato anche me. Siamo in una caverna di briganti. Bisogna trovare il modo di scappare, bisogna salvare il sindaco. Costi quel che costi, fate finta di sentirvi male. Sì, così. Ad alta voce, al capo di divisione, fingendo di aver bevuto troppo. Mio generale, ecco il mio compagno, cui il vino del nostro buon re ha dato alla testa, ha bisogno di un po' di riposo e io, se lo ordinate, lo accompagnerò per tenergli compagnia. Il capo di divisione. Andate, andate, e voi, signori, avreste dovuto guardarvi da ridurlo in quello stato. Il secondo granatiere, fingendo di essere brillo. Avete ragione, mio generale, ma il nostro buon re, la nostra buona regina, ci danno del così buon vino che non riusciamo, capite? e allora noi, per riconoscenza, ci metteremo nelle condizioni di servire le loro maestà e i loro disegni. Escono, tenendosi sotto braccio e camminando a zigzag come ubriachi. Arrivati in fondo, indietreggiano per lasciar passare il sindaco di Parigi, alzano le mani al cielo e gli fanno dei segni che stoppiscono il sindaco. Uscendo, minacciano gli altri. Pettion dal fondo della scena guardando i granatieri andarsene. Cosa vogliono dire con quei gesti, quei due? Rivolgendosi ai cavalieri del pugnale. Che significa questo tumulto nel castello? Me l'avevano detto? Non avevo voluto crederci? La maggior parte delle vostre facce non le conosco. Andiamo dal re. Fa per entrare al fondo della scena. Clermont Tonner fermandolo. Signor sindaco, ci dovete qualche spiegazione circa questi assembramenti popolari? Pettion serenamente. Piuttosto la chiedo io a voi. Bucman, bell'impostore. Pettion sorpreso. State parlando con me? Bucman, con voi. Pettion, come risposta vi dico solo che la mia condotta smentisce ogni calunnia. Bucman, come avete potuto non prevedere questi assembramenti che attentano alla persona del re? Pettion, chi non pratica il male stenta a indovinarlo negli altri, ma ora comincio a capire quanto sia facile ingannare chi ha più fiducia? Bucman, e ve ne accorgete soltanto oggi? E l'attacco al castello del 20 giugno non vi aveva messo in guardia? Pettion, potrei dispensarmi da rispondere, ma voglio spiegarmi ad alta voce. Conosco i doveri che impone il mio ruolo. So che il mio compito oggi è terribile e difficile da svolgere. Un popolo che ha saputo spezzare i suoi ferri non vuole più piegarsi al gioco dei tiranni. È agitato da sentimenti diversi. L'amore per la libertà lo fa cadere nelle trappole tese contro di lui dai cospiratori a corte. Qualche vile cittadino più ambizioso che utile corre verso i loro stessi scopi, gli scopi, ripeto, dei traditori di corte. Questo, dirò al re, se siamo ancora in tempo lo allontanerò dal baratro in cui l'avete precipitato o morirò con lui. Ecco qual è il vostro operato e qual è la mia condotta. Il capo di visione Faremo come voi, signore. Vi annuncio che tutta la guardia nazionale ha giurato di mantenere la costituzione, di difendere il suo re e di far seguire le leggi. Petion Sono venuto per autorizzarvelo, ma sappiate che non darò mai l'ordine di tirare sulla folla se quell'ordine non lo riceverò dall'assemblea nazionale e dal re. La giornata del venti che mi rimproverate è la prova lampante che l'amitezza giova più del rigore. Clermont Tonner E se il popolo arrivasse stanotte al castello armato fino ai denti? Petion interrompendolo in questo malaugurato caso lo si respingerà con la forza. Ma mi illudo di pensare che la mia voce saprà sovrastare la massa dei buoni cittadini che non vorranno fare a pezzi i loro fratelli, i loro amici senza una ragione né un perché. Un cavaliere del pugnale Tutte chiacchiere i vostri sotterfugi non li beviamo non uscirete dal castello come vi siete entrato dovrete morire al vostro posto accanto al re come noi per difenderlo. Petion Sono pronto anche a questo non crediate però che voglia trasformare questo palazzo in una macelleria se il popolo stanotte si presenterà alle porte andrò a parlargli spero di farlo ravvedere ma se voi sparerete mi strapperò la sciarpa da sindaco e andrò col popolo il cavaliere del pugnale anche questa dobbiamo sentire tutti fanno il gesto di estrarre il pugnale Clermont Tonner fa un gesto per trattenerli a Petion che voi siate il sindaco di Parigi non mi fa certo piacere e ancor meno il vedervi sostenere una causa che tutte le persone da bene hanno abbandonato da tempo che cosa sperate dal Campidoglio alla Ruppe Tarpea il passo è breve lo sapete Petion se solo questo mi aspettasse ringrazierei il cielo ma i pugnali di corte non mi fanno sperare in una fine così gloriosa Clermont Tonner temete forse di essere in mezzo a dei nemici qui dentro siamo tutti buoni cittadini e io credo che Petion il manoscritto di Olempe de Goug ritrovato nella sua casa si arresta qui senza poter terminare l'opera e neanche la scena e neanche la frase che stava scrivendo fu arrestata e poi sommariamente processata senza che le venisse concesso un avvocato e infine ghigliottinata mentre scriveva quest'opera stava riportando i fatti in tempo reale quando fu arrestata non sapeva ancora come sarebbe andata a finire l'opera ma noi lo sappiamo perché lei trovò la sua morte e con lei tutta la famiglia reale nel giro di poco tempo questa agghiacciante sincronicità fa assumere alla pièce l'aspetto di una cronaca fine finirà l'aspetto non sapeva la sua morte non sapeva la sua morte Grazie a tutti